amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo le abbiamo già presentate diverse nel corso delle delle varie puntate comunque è sempre un piacere presentare una fiat coupé in questo caso è un 20 valvole ne abbiamo presentate alcune anche recentemente ma erano magari 16 valvole abbiamo presentato anche una versione aspirata che sono quelle più rare diciamo questo è un venti valvole per cui è l'ultima versione un come anno un 96 è un'ultima versione dopodiché la fiat ha deciso di chiudere questa avventura con appunto una vettura che ha molto significativa c'è una linea che ancora oggi è molto caratteristica soprattutto è molto apprezzata dai vari collezionisti poi a chi piace o non piace ma comunque è una linea che si caratterizza molto soprattutto essendo marchiata fiat dove magari in quegli anni la diciamo era le la fisionomia delle carrozzerie di questo marchio anche di altri erano più standardizzate in questo caso una coupé di questo genere direi che è una una macchina che ha lasciato il segno queste macchine generalmente soffrono in maniera particolare di problematiche elettriche soprattutto se uno non le tiene assolutamente da conto o in locali chiusi perché ovviamente le componentistiche di una volta non erano così accurate soprattutto le schermature dei cablaggi gli innesti con gli spinotti avevano già allora dei problemi figuriamoci una macchina che a oggi ha 25 anni 26 quindi spessissimo quasi tutte quelle che ci capitano hanno due o tre punti dove per forza di cose bisogna andare a controllare e verificare ormai siamo salvo appunto macchine più disastrate ce ne sono capitato un paio tanti anni fa dove veramente è stata un'avventura riuscire a rimetterla in moto ci siamo riusciti però abbiamo tenuto la macchina in officina per veramente tanto tempo questa è una macchina comunque ben tenuta dobbiamo sistemare un paio di pecche che sono tipiche di questa macchina e poi il cliente ci ha chiesto di fare già che c'eravamo già che eravamo per la strada come si suol dire di fare un paio di upgrade abbiamo qui i due componenti che andremo a montare quindi un collettore di scarico con le cinque per i cinque cilindri ovviamente un incrocio diverso completamente in acciaio inox con la sua flangia che si andrà a collegare questa si va a copiare direttamente sul turbo compressore turbo compressore che ovviamente rispetto a quello di serie è un turbo compressore specifico per questa macchina con gli attacchi delle carte di aspirazione scarico specifici per questa macchina con una volumetria maggiore e soprattutto con la parte interna delle giranti in avionale e sulla parte calda che è questa con le giranti in inconelle oltre a questo dobbiamo poi dare un'occhiata alla parte elettronica e qui entriamo un po' in una diciamo in una preistoria perché questo tipo di elettronica questa centralina è una bosch quindi per questo tipo di vettura non possiamo utilizzare il classico sistema collegandoci alla preso bd oppure tirando giù fisicamente la centralina ma bisogna proprio andare a aprire la centralina cioè aprire il coperchio e andare a togliere la eprom che praticamente è il cervello di tutto quello che è la parte elettronica di tutti quelli che sono i circuiti all'interno quindi un lavoro abbastanza delicato bisogna avere delle strumentazioni di vecchio di vecchio stampo che noi purtroppo non abbiamo più perché sono cioè stiamo parlando di tecnologie di oltre 20 anni fa quindi in questo caso dovremmo per la parte elettronica appoggiarci a un nostro collega che ha ancora queste vecchie attrezzature quindi il banchettino dove mette la eprom e riesce a scaricare il programma e a caricare il programma modificato perché ovviamente andando a fare questo genere di lavori per forza di cose siamo obbligati a toccare anche la parte elettronica se no con una turbina con una volumetria più grossa ovviamente ci sarà una perdita di coppi in basso per avere poi un incremento di potenza a un numero di giri che sostanzialmente non è quello ideale quindi il discorso della mappatura lo dobbiamo fare e ci avveremo della collaborazione di questo nostro collega per il resto direi che la macchina è perfetta perché ci ha chiesto di controllarla anche per ammortizzatori freni quant'altro la macchina è assolutamente perfetta io direi che fatto salvo magari di fare una puntata di upgrade quando avremmo montato tutto e soprattutto quando avremmo risolto il problema della parte elettronica per fare magari una prova in strada e vedere come si comporta dinamicamente per questa coupe 20 valvole direi è tutto come al solito mi invitiamo a contattarci in sede allo 027383175 mi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it cliccare sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano a far crescere questo questo canale in maniera sempre più consistente e grazie alle vostre alle vostre iscrizioni e soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima iscriviti al canale